Musica Ciao a tutti qui su Perlopan777 e benvenuti in questo video del terzo turno del torneo in PU Allora, il terzo turno vediamo un po' subito i primi componenti che andranno a sfidarsi Abbiamo innanzitutto il numero 17, cioè Simone De Santis che ha passato il secondo turno contro Dark Strafe MC Gamer Il secondo, cioè quello che sfiderà il numero 17 è Lorenzo Milan che come abbiamo già visto è passato direttamente al terzo turno Poiché non aveva uno sfidante al secondo turno, ma questo l'ho già detto nel video precedente La seconda coppia sarà invece formata da il numero 21, quindi Andrea Cagnoli contro il numero 9 Il numero 9 che è Turbo Neofita che è passato per via di un crash di internet dell'avversario L'è crashata la connessione ma comunque era in vantaggio, hanno tentato più volte di lottare Comunque sia, è passato Turbo Neofita con il consenso di entrambi tra l'altro Mentre l'ultima coppia che abbiamo che va ad affrontarsi per il terzo turno è il numero 18 Quindi Saverio Guerra contro il numero 3 che è Thomas Ballarini Ricordo che chi vincerà questa sfida andrà direttamente in finale Mentre dall'altra parte ci sarà un ulteriore scontro prima di raggiungere la finale e giocarsi il titolo Guardate che bella la corona E niente, direi che per questo video è tutto Nella descrizione trovate come al solito tutte le informazioni riguardanti i vostri avversari Ricordo ancora 17 contro 24, 21 contro 9 e 18 contro 3 E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao Inizierei proprio con lui, vediamo un po' che cosa succede Infatti inizia Asrift alla parte dell'avversario Quindi buona, dovrebbe essere un problema Però mi va a confondere E questo sì che è un problema Perché con la mia fortuna naturalmente mi...